Buonasera a tutti, buon suoi. Allora, Rai, Francesco Rocchi, se vous plaît, là-bas. Francesco. Alzate la mano, così l'aiutate. Buonasera, ciao Stefano. Buonasera. Allora, cominciamo con le tue sensazioni. Una partita molto importante domani. Adesso avete assaggiato questo prestigioso campo. Un Milan che deve vincere qui al Parco dei Principi. Poi ho una domanda per Olivier. Le sensazioni sono di una partita molto importante. Una partita di Champions League. Dove purtroppo non siamo ancora riusciti a vincere una partita. E dove questo doppio sconto con il PSG in due settimane sarà molto importante. Mi auguro che non sia ancora decisivo. perché spero e credo che questo giorno si deciderà l'ultima giornata. Per Olivier? Una domanda per Olivier. Si, ci sento. Ci sento. Si, si, no, va bene, ma facciamo per loro. Mi piace con il microfono. Mi piace, mi piacevamo, mi sento importante. Mi sento importante. Dai. Olivier, senti, è lo stadio giusto in Francia, casa tua e il tuo paese per tornare a segnare. Sì, sì, è sempre una sensazione speciale di tornare in Francia. L'ultima volta che ho giocato qua mi sono fatto un po' male alla caviglia, quindi non è un buon momento ma sono molto felice di essere tornato a Parigi per giocare con il Milan. Sì, non posso aspettare questa partita di domani. È sempre un piacere di venire qua. Corriere della Sera. Ciao Stefano. Ciao. Prima tu parlavi delle prime due partite che non sono andate come speravate. Allora volevo chiederti che cosa vuoi vedere, che cosa non vuoi vedere del tuo Milan, di quelle due partite domani. Io vorrei rivedere tutto, perché credo che abbiamo giocato due partite di alto livello, due partite da Champions, con ritmo, con qualità, con intensità, con energia, soffrendo nei momenti che c'era da soffrire. Ma credo che poi il calcio è strano, il calcio è imprevedibile, perché non essere riuscito a segnare neanche un gol in queste due partite per l'occasione che abbiamo creato è davvero particolare. Credo che domani avremo molte meno occasioni, ma magari facendo quattro tiri in porta faremo cinque gol, come è successo poi in alcune partite. Quindi quello che voglio dire da squadra è la personalità, la convinzione e la capacità di stare dentro una partita contro un avversario molto forte. Luis Enrique sta facendo un lavoro incredibile. In quattro mesi ha ribaltato una squadra che prima si affidava solamente a grandissimi campioni, ma che non aveva un gioco di squadra, una squadra moderna, una squadra aggressiva, una squadra intensa, un allenatore che stimo tanto, come allenatore, come persona. E quindi ci troviamo di fronte ad un avversario molto forte, ma siamo il Mina, vogliamo giocare la partita a testa alta, cercando di ribattere colpo su colpo. Gazzetta dello Sport. Ciao Stefano. Ciao. Due cose velocissime. Pobega ha giocato 99 minuti in dieci partite di campionato e ha giocato da titolare le due in Champions. Può essere la sua partita. Hai un'idea di una mediana da Champions e una da campionato? Questa è la tua logica. La seconda, Luis Enrique ha promesso anche oggi molto attacco, molto offensiva. Ha provato anche nell'ultima partita, ha giocato con quattro attaccanti, 4-2-4. Paradossalmente, può essere meglio rispetto a una squadra come la Juve, che non ti dava spazio e se ne stava chiusa lì dietro? Grazie. Pobega è un centrocampista con determinate caratteristiche, si è trovato nella posizione giusta e nel momento giusto per quei due partiti di Champions, per le rotazioni che avevo fatto e anche per le caratteristiche che servono in queste partite. Se dovessi pensare che domani serviranno di più le sue caratteristiche rispetto a altre caratteristiche, gioca dall'inizio, altrimenti comincerà dalla panchina pronto ad entrare. Comunque, Luis Enrique, chiunque faccia giocare, gioca con quattro giocatori offensivi, perché anche se magari non schiera i quattro attaccanti, comunque c'è Vettina che si alza, con Vapio che stringe. Dobbiamo essere molto compatte, dobbiamo essere molto bravi, è chiaro che potrebbe essere rischioso sia aspettarli per la qualità che hanno, sia andargli a prendere per la qualità e la velocità che hanno. Quindi l'importante è fare le cose fatte insieme, che tutti abbiamo la stessa idea e che portiamo la pressione quando momento di portarla nei modi, nei tempi giusti, sapendo che poi dopo potremo anche, se riuscissimo a saltare la loro prima pressione, che è molto forte e molto efficace e trovare gli spazi giusti per essere pericolosi. Prego. Oui, buonsoir, Julien Frommand, Radio France. Una question per il coach e per Olivier Giroud. Olivier, vous êtes un po' un infiltré, vous les connaissez bien, les attaquanti del PSG. Quel conseil vous avez donné a votre coach, a votre équipe, par rapport a ces attaquanti che vous connaissez très bien? Et coach, un mot, s'il vous plaît, sur Olivier, qui semble un po' défier le temps, tout simplement, a 37 ans, il è ancora très performant. Quel regard vous portez sur lui? Merci beaucoup. Onore a vous. Rispondo io? Prima rispondo io, così dopo tu sei. Olivier è un grandissimo giocatore, un uomo di grande spessore, che sicuramente ha aiutato tantissimo la squadra a crescere, ci ha aiutato a portare una mentalità vincente, ci ha aiutato con l'esempio, con la professionalità, con i gol. Con il lavoro dentro la partita, con il lavoro dentro ogni singolo allenamento, a cosa significa cercare di lavorare e giocare per essere ad alto livello? Concerno vostre question, prima grazie coach. Non, non, j'ai donné des conseils, oui, à mes partenaires, mais je ne vais pas vous les dévoiler, mais oui, j'ai surtout donné des conseils aux défenseurs qui, forcément, connaissent la force, contre le potentiel offensif de cette équipe, mais oui, j'estime que ce sera, si on doit faire, on veut faire un grand match, mais ça passera par une force collective, voilà, en premier lieu, même si on sait qu'au niveau de toutes les lignes, ils sont très performants. Mourad Sefiane pour la Source Parisienne, une question pour Olivier Giroud, vous êtes toujours du joueur du Milan AC, vous avez beaucoup de vos partenaires en équipe de France qui jouent au Paris Saint-Germain, est-ce que ça aurait été inenvisageable un jour de vous voir jouer au Paris Saint-Germain? C'est une question dans le passé ou dans le futur? Non, on m'a déjà posé cette question, en fait, je suis très fier et reconnaissant d'avoir eu l'opportunité d'avoir joué dans des grands clubs. Mon rêve tout petit, c'était de jouer un jour en première ligue, qui plus est, avec les Frenchies qui ont fait les beaux jours de Arsenal, pour moi, c'était une bénédiction de pouvoir évoluer là-bas, à mon tour, puis Chelsea aussi, et quand j'étais petit aussi, je l'ai déjà dit, plus adolescent, j'étais fan du grand Milan, et je suis aussi très fier d'avoir atterri au Milan AC, c'était peut-être pas, pour moi c'était écrit, même si j'avais pu terminer chez les cousins de Bleu et Noir quelques années auparavant, mais une année et demie auparavant, mais non, je suis très fier d'avoir joué dans ces équipes, de représenter le grand Milan, qui pour moi est une grande équipe d'Europe, et j'essaye de tout faire pour que le Milan revienne, voilà, aider le Milan à revenir au-devant de la scène européenne, en premier, sur les premiers, comment dire, pour jouer les premiers rôles, l'année dernière on a eu la chance d'arriver jusqu'en demi-finale, c'était une très belle épopée, mais concernant Paris Saint-Germain, il n'y a jamais eu vraiment d'opportunité de signer pour Paris, mais c'est un très grand club français, oui, comme aussi un autre un peu plus au sud, que je supportais quand j'étais petit, voilà, donc voilà, je suis de la génération 86, et pour ceux qui sont de ma génération, beaucoup supportaient aussi ce club qui se situe un peu plus au sud. C'est tout sport? Non, non, là. Buonasera Stefano, et je voudrais faire trois demandes à toutes et deux sur Joux, à te voulon demander comment si difendent sur Joux, et puis, vu que c'est la... Sur Mbappé. Eh, sur Mbappé, scuse, Mbappé. Quelle ti risponde lui. Non, parce que je veux dire de Joux, comment si difendent sur Mbappé, e poi se per la tua 200esima partita al Milan sogni come regalo una notte di Léao à Mbappé a livello realizzativo. E per Olivier, voulon demander, com'est, vu que ci giochi nazionale, Mbappé, ecco, cos'ha di diverso da tutti gli altri? Io credo che Mbappé abbia una capacità di movimento, seglie sempre il tempo giusto, poi lo fa con una velocità incredibile e con una qualità tecnica importante per finire l'azione. Quindi è chiaro che chi si troverà nella zona dove lavora Mbappé, è chiaro che deve essere molto attento, preparato, capire, non a reagire, ma provare ad anticipare il suo movimento. E ripeto, più sprocheremo i palloni nella sua direzione, e più avremo magari qualche possibilità per cercare di limitarlo. Io spero che possa fare gol Olivier, possa fare gol chiunque dei miei giocatori. Léao darà il massimo per cercare di essere un giocatore determinante nella nostra fase offensiva, come farà Olivier, come farà Christian, come dovranno fare i nostri centrocampisti, come dovranno fare come squadra. Quando abbiamo la palla, dovranno essere sempre tutti pronti per cercare di essere molto pericolosi, per cercare di essere molto più positivi, per dare delle soluzioni buone in fase di costruzione, per essere pericolosi in fase realizzativa. È quello che dobbiamo fare tutti insieme. Su di Kylian? Sì, Kylian lo conosco molto bene adesso. Giochiamo da quasi sei anni insieme con la Nazionale. Tutti sanno il suo talento escezionale. Sappiamo che lui è uno dei migliori giocatori del mondo e quindi dobbiamo essere focus concentrati su di lui, ma non solo perché loro hanno una squadra anche collettivamente molto forte. Sì, niente di più. Ok, area qua, davanti. Grazie. Ciao Stefano. Parzialmente hai risposto dicendo che si deve giocare di squadra. Hai fatto i complimenti a Luis Enrique perché ha trasformato il gioco di singoli di squadra. I tuoi giocatori giocano tutti dentro quello che gli chiedi tu visto le polemiche che ci sono state recentemente. Mi ha sottolineato Leao. Andiamo di là. Per favore. Qua. Buongiorno Olivier, Dario Di Vial per Sud Radio. La C'est Milan realizza un buon début di saison sul plan offensif, soprattutto in campionato, ma in due giorni di Liga dei Champions sempre zero but inscritti in quanto attacchi. Secondo voi, qu'è ci manca per concruttare queste occasioni? Grazie. C'è una buona question. On essaie sempre di marcare dei buti per aiuto l'equipe, di fare al meglio. In quanto attacchi è importante essere efficace e decisivo per la sua equipe. C'è vero che nel match contro Newcastle c'è creare molte occasioni, non ci siamo riuscii a le concruttare. Quindi io penso che bisognava guardare in testa questo esprito di essere più, non ne so più questo mot, ma è il è rivelato, un po' più agressivo, tueur in la superficie, per concruttare la nostra dominazione. A Dortmund on ha avuto l'occasione anche nei ultimi instanti di le fare, non l'abbiamo fatto, quindi bisognava servire di questa frustrazione, potremmo di non aver preso i punti, per se rappele che a questo livello ogni dettaglio conta e la differenza si fa nelle due superfici. Quindi è per noi di corrigerlo, di essere più agressivi davanti al but, determinati, efficaci, per aiutare l'equipe a gagner. Allora abbiamo Vitiello, per legate e lungo, così se avete Vitiello qua, alzate la mano così la aiutate. Ok, grazie. Sì, salve mister. Volevo solamente chiederle come mai non sono venuti a Parigi i vari Okafor, ovviamente l'Oftu Ciclo lo sappiamo, se sono recuperabili per Napoli ed è un problema per l'attacco perché poi rimangono davvero pochissime soluzioni lì davanti, anche in panchina. Non sono venuti perché non sono disponibili per giocare. Okafor sicuramente dovrebbe essere recuperato per Napoli. Rups sta un po' meglio, ma ancora non so se sarà recuperato per Napoli. Sì, ma abbiamo altri giocatori che possono occupare certe zone e poi possiamo anche cambiare qualcosina anche a livello di posizione se dovessimo cambiare qualche giocatore. Prego. Grazie. Una domanda a Stefano e a Olivier. Stefano, esiste un mal d'attacco? E nel caso, se esiste? Come si cura? Dobbiamo segnare di più. Questo sicuramente per quello che stiamo riuscendo a creare, soprattutto in Champions. E adesso dobbiamo essere concentrati a cercare di concretizzare di più quello che riusciremo a creare. Questo è sicuramente il nostro obiettivo, come ha detto Olli, è il nostro focus e quindi sfruttare al meglio la minima o la prima o la seconda occasione che ci può capitare perché poi si gioca ad alto livello e certe occasioni devi prenderle quando riesci a crearle o quando ti capitano anche per qualche errore degli avversari. Olivier, io leggo i siti francesi. Giroud dévoile le plan anti-Mbappé. Olivier Giroud prévient Non è Mbappé che deve dire ai suoi colleghi come si ferma il buteur numero uno della nazionale francese? No, no, no ho niente da aggiungere su Kylian sappiamo tutti le sue qualità sì, le mie anche ma non mi piace parlare di me io voglio sempre mettere la squadra davanti sono un giocatore di squadra quindi quando faccio bene anche perché la squadra mi aiuta a fare il migliore e quindi voglio solo parlare della squadra della mia squadra sono orgoglioso di questo Milan anche se non abbiamo preso i punti che dovevamo potevamo prendere oggi sappiamo che queste due confrontazioni saranno toste ma è importante per noi per sperare una qualificazione per la Sixteen quindi non mi conosci bene perché non mi piace parlare di me quindi io parlo di Kylian ai miei compagni e basta siamo qua vorrei fare due domande rapidissime allora la prima mi leggo al discorso dell'attacco abbiamo visto nell'ultimo partito perlomeno io magari sbaglio c'è che Leao e Pulisic cercano spesso anche la soluzione sul secondo palo non so se è una situazione di gioco su quale state insistendo e se gli chiede di calciare di più in porta perché abbiamo visto le statistiche sono un po' più basse rispetto agli altri esterni top della Serie A e poi le volevo chiedere Leao e Pulisic se devono calciare di più in porta abbiamo visto che soprattutto nell'ultima partita cercano sempre la soluzione a cercare l'altro esterno sul secondo palo o perlomeno l'ho vista io magari mi sbaglio e poi le volevo chiedere anche in fondo sarà la prima volta anche contro Donna Rumma da avversario che emozioni ha in questa vigilia se l'ha sentito in questi giorni grazie certo che Leao e Pulisic devono cercare di più la porta il problema è quando non abbiamo un numero sufficiente di giocatori vicino a Leao e Pulisic che permette agli avversari di raddoppiare se Leao e Pulisic vengono raddoppiati per loro diventa difficile tirare in porta e quindi diventa più facile invece scaricare o crossare in porta credo che nel primo tempo in parità numerica le posizioni nostre mezzarie sono state troppo basse hanno permesso da Juve costantemente i raddoppi sui nostri esterni quelle sono state le difficoltà che abbiamo incontrato ma quella è un'altra storia domani ci sarà una partita completamente diversa completamente diversa per l'impostazione dei nostri avversari per il ritmo della gara per la qualità che dovremmo mettere in campo e quindi adesso concentriamoci sulla partita di domani l'altra Gigi l'ho visto quando sono venuti con la Milanella con la Nazionale l'ho abbracciato ogni tanto ci messaggiamo è stato un ragazzo che nei due anni che ha lavorato con noi ha dato il massimo fino all'ultimo giorno e quindi lo saluteremo domani Sì 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 no chiaramente l'ho guardata onestamente penso che se si dovesse rigiocare la stessa partita difficilmente riuscirebbe un risultato del genere per come ha giocato il PSG e per come ha giocato il Newcastle Newcastle ha messo in campo tutte le sue qualità ma anche il PSG ha messo in campo tutte le sue qualità il PSG ha avuto delle occasioni per andare in vantaggio anche abbastanza clamorose poi le partite e il calcio veramente imprevedibile però certo che l'abbiamo guardato e certo che abbiamo preso anche degli spunti grazie buon lavoro a tutti